Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. La Sette è un scontro molto duro. La prima volta che Marina Berlusconi ha preso una posizione esplicita contro un Presidente del Consiglio, contro Mameloni. In questo scenario agisce Ricci. L'idea che uno possa dire o degli altri materiali è un elemento, comunque la si pensi.